Ripartire con una vita nuova e diversa è anche quello che ci racconta Fabrizio Assandri nel servizio che ha preparato per noi. Vediamolo e poi torniamo in studio. C'era dei grossi problemi, disfratti e compagnia di varie, buon'anima di mia mamma, gli hanno dato la casa qui. Come tante famiglie, quella del signor Pietro si trasferì qui dopo uno sfratto. Quartiere Diamante di Begato, sulle alture di Genova, concentrato di edilizia popolare in cui, sulla scia del boom economico e dell'emergenza abitativa, vennero costruite le dighe da tanti definite ecomostri, palazzoni alveari demoliti due anni fa. L'ecomostro non c'è più, ma i problemi restano. Noi abbiamo dei grossi problemi quanto riguarda la sicurezza, quanto riguarda l'abusivismo, abbiamo dei problemi di appartamenti che ci piove dentro, infissi che non tengono, c'è più caldo fuori che dentro. Un quartiere che ha il record cittadino di persone seguite dai servizi sociali. Secondo l'Associazione Medici per l'Ambiente, nel 2022 qui c'è stato il 69% di decessi in più rispetto alla media cittadina. Tante case in vendita, diverse finiscono all'asta. Il quartiere è però al centro di un grande progetto di rigenerazione urbana, oltre 15 milioni di euro investiti dalla regione Liguria. I lavori partiranno a maggio. 60 nuovi appartamenti, luoghi di aggregazione, spazi verdi, un teatro all'aperto, una nuova stazione dei carabinieri. Ma al contrario della massima di De Andrè, il quartiere di Amante fa già nascere i fiori. Sono i molti progetti legati all'inclusione, a partire dallo sport. L'attività dello sport come agonismo viene in secondo piano. Lo sviluppo dello sport con una funzione, un ruolo sociale è la priorità assoluta. Le quote di iscrizione spesso non vengono chieste. Questo è un quartiere, una zona in cui diciamo che le quote, quello che si può fare, molte volte non possono essere soddisfatte da parte dei genitori. Nello stesso palazzetto i volontari di Sant'Egidio distribuiscono pacchi alimentari. Questo è il nostro magazzino dove abbiamo stipato tutti i bancali con i vari prodotti che mettiamo poi nelle scatole, come avete visto. Ci sono carne scatola, vari fagiolame, caffè. Fondamentale il dopo scuola. Quello che noi vogliamo con questi bambini e questi ragazzi è creare una comunità, creare dei legami che siano veramente dei legami che nel momento del bisogno possono sostenere le difficoltà della vita che in questo quartiere sono molte. Guido e volontario Caritas e San Vincenzo. C'è questo disagio principalmente economico. Per il resto è un quartiere che io ci vivo qui da 40 anni, ci vivo bene. Secondo lei c'è un po' uno stigma su questo quartiere? Per me sì. Sì, diciamo che questi cantieri sono all'inizio, sanno per partire, proprio si citava per esempio il tunnel subportuale che è uno dei cantieri importanti che avrà un impatto fondamentale anche sulle aziende di Genova e poi la diga del porto. Insomma, sono tante opere, tante infrastrutture, però siamo ai nastri di partenza. E anche qui a Begato siamo ai nastri di partenza con la riqualificazione che partirà a maggio. I primi cantieri sono previsti a maggio, anche questi sono fondi della regione ma anche legati al piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi insomma, come si diceva prima, bisognerà monitorare l'uso di questi fondi e le tempistiche. Qua c'è stato anche un lieve ritardo nell'inizio dei cantieri che dovevano partire già un anno fa. Quindi insomma ci sono dei segnali tra luci e ombre. Ma presentaci Fabrizio... E da studio bisognerà poi monitorare molto bene. Presentaci il tuo ospite che ringraziamo per la pazienza. Lorenzo Mantero, che è un volontario della comunità di Sant'Egidio, lui mette le mani nelle difficoltà sociali di questo quartiere. Proprio qui dietro, su quella casetta lassù, viene gestita dalla comunità di Sant'Egidio la Scuola della Pace. Di che cosa si tratta? Sì, buongiorno. La Scuola della Pace è un centro dopo scuola per tantissimi bambini. Sono 100, tra bambini, adolescenti e ragazzi del quartiere di Begato, che frequentano il nostro centro. Prima si parlava di tanti problemi urbanistici, che credo siano fondamentali. I problemi del quartiere un po' nascono da una cattiva urbanistica e siamo molto contenti dei primi passi di una riqualificazione in questo senso. Penso che però ci siano anche altri problemi più umani, come diceva anche il presidente Romeo. E per ritessere un po' il tessuto sociale del quartiere che si sfalda, tanta gente sola, serve anche qualcuno che prenda ago e filo e inizia a ricostruirlo, appunto, a ritesserlo. E quello proviamo a fare con la Scuola della Pace e con tanti altri servizi in questo quartiere. Che risposta vedete dai bambini? Chi sono questi ragazzi? Sì, i ragazzi e i bambini sono appunto figli di famiglie, avranno alcune più in difficoltà, alcune mamme sole e appunto la solitudine è un po' al centro di tutto, di tutte le problematiche che vediamo, sia nei bambini, sia negli anziani. La solitudine non è solo un sentimento, ma penso sia qualcosa che anche uccide. Penso appunto agli anziani soli nel quartiere, anziani che vivono anche ai piani alti, ascensori che non funzionano, ci sono persone, anziani che non vedono nessuno che nota il fatto che stanno male. C'è anche un problema di integrazione con persone che arrivano da paesi diversi? Sì, io penso che più che un problema di sicurezza, come magari uno si possa pensare, c'è proprio un problema di integrazione, cioè ognuno sta da solo con la propria cultura, con le persone che vengono dallo stesso paese. Questo è un problema soprattutto degli adulti che noi proviamo a invece ricollegare a partire dai ragazzi. I ragazzi alla Scuola della Pace, come anche a scuola, noi collaboriamo tantissimo con le scuole del quartiere, stanno insieme ed è importante ripartire da lì e appunto aiutare i ragazzi a capire che vivere insieme fa realizzare una città più bella. Allora Fabrizio e Lorenzo, restate un attimo lì bella questa immagine del ricucire, bisogna che qualcuno si metta lì con ago e filo e ricucia il rapporto anche territoriale ma anche sociale. Allora ripassiamo da Fabrizio a Sandri e chiediamo proprio una battuta conclusiva al tuo ospite della comunità di Sant'Egidio, perché insomma dicevo una bulimia quasi della costruzione, del costruire Giovanni Mari e questa attività di rammendo però citando Renzo Piano appunto e soprattutto sociale. Allora lascio al tuo ospite la conclusione di questa puntata a Genova. Un ospicio, che cosa bisogna fare? Sì allora no, grazie, penso che appunto le prospettive anche diciamo infrastrutturali sono ottime e come si diceva monitoreremo il fatto che le ottime proposte vengano effettivamente realizzate e penso anche che le prospettive dal punto di vista umano ci siano, c'è tanta speranza, voglia di fare nel quartiere e fuori. Noi i volontari che operano a Begato sono alcuni proprio di Begato, altri vengono da altri quartieri della città e appunto credo che dal costruire delle reti si abbiano veramente risultati impressionanti. Quest'anno abbiamo avviato una collaborazione ad esempio con la comunità islamica di cui erano parte alcune famiglie dei nostri bambini della scuola della pace che adesso tutti i mesi confezionano per noi dei pasti caldi che portiamo alle persone che vivono per strada nel centro della città di Genova. Grazie Lorenzo Mantero, grazie Fabrizio Assandri della Forse non ci sentono, grazie del vostro collegamento. Grazie ai nostri ospiti studio, Paolo Logli, Giancarlo Gioielli, grazie per essere stato con noi e con Periferia e ci vediamo sabato prossimo. Grazie a tutti.